Ok ragazzi, siete Chiara Ferragni e finalmente, dopo mesi e mesi di caduta libera, i vostri follower stanno tornando ad aumentare. Ben 10.000 persone in più rispetto alla settimana precedente sono interessate alla vostra separazione. Vogliono sapere se Fedes vi farà davvero causa per qualche milionata di euro per danni all'immagine e soprattutto se il vostro futuro ex si è davvero dato ai beveraggi. E quando la gente inizia a interessarsi al fatto che Fedes si stia dedicando alle bevande alcoliche, che cosa potrà mai andare storto? Iniziamo dall'elefante nella stanza. Molte persone sospettano che la separazione da Fedes sia completamente fittizia e sia anzi una mossa studiata a tavolino proprio per recuperare follower e iniziare a discutere di qualcosa di diverso che non siano delle potenziali truffe. Voci di corridoio dicono che questa separazione, mediaticamente parlando, la stai gestendo davvero bene, troppo bene. Addirittura passi il tuo tempo a presentare libri di automotivazione di autori stranieri che nessuno conosce e a citare frasi che dovrebbero risollevare il morale a te e a tutte le milionate di persone che sono immerse in un oceano maleodorante di sfortuna. Oceano che naturalmente sarebbe più appropriato definire come un mare di bippa, ma il supremo algoritmo non me lo permette. In ogni caso il problema è che la gente non ti segue più perché ti trova simpatica e vuole condividere delle avventure, degli stati d'animo con te. Ti segue solo per vedere quanto male ti farai e quanto profonda sarà la tua caduta. Il che non è esattamente il massimo perché tu a differenza di un liccardo, di un crozza, di un travaglio, di un corona qualsiasi non fai soldi con l'intrattenimento ma li fai piazzando del merchandising. Quindi se la gente ti segue ma continua a non sopportarti e soprattutto continua a non sopportarti acquistando i tuoi prodotti tu continui a cadere dritta sportiva verso il disastro. E naturalmente se davvero c'è tanta gente che pensa che questa separazione sia semplicemente una trovata pubblicitaria allora vuol dire che questa gente non ha un'altissima opinione né di te né di Fedez che è il tuo compagno. E qui si inserisce la prima tematica calda ma anche divertente e relativamente interessante della settimana. Infatti secondo Corona il re ormai decaduto dei gossipari Fedez sta valutando da illo tempore l'opportunità di fare causa alla sua più o meno ex compagna per ottenere un conguro risarcimento dei danni all'immagine che avrebbe subito a causa di tutti questi scandali. Quindi secondo questa ricostruzione che resta tutta da provare Fedez non solo è poco incline a onorare il giuramento fatto davanti all'ufficiale di stato civile al momento del matrimonio ma addirittura sembrerebbe propenso a danneggiare ulteriormente la compagna già ferita. Ora premesso che personalmente troverei questo comportamento decisamente anomalo perché comunque Fedez ha già le sue imprese, sono avviate, un 20 milioni di fatturato se li porta sportivamente a casa e non ha bisogno di altra pubblicità negativa ma a livello puramente teorico potrebbe realmente fare qualcosa del genere? Ora naturalmente il danno all'immagine rientra nell'alveo dei danni extracontrattuali che sono regolati tra le altre norme dall'articolo 2043 del nostro codice civile il quale sostanzialmente afferma che chiunque causa un danno ingiusto è tenuto a risarcire. E naturalmente questo danno deve essere cagionato da un fatto doloso o colposo. In pratica questa norma dice tutto e assolutamente nulla. O meglio in alcuni casi anche abbastanza scontati è certamente utile in molti altri non aggiunge assolutamente nulla al buonsenso. Esemplifico, se io sto camminando per strada e sono distratto e proprio perché sono distratto, per esempio, finisco per farti inciampare e tu cadi rovinosamente al suolo rompendoti una gamba è chiaro che io sono tenuto a risarcirti il danno che ho causato. Ripeto, è buonsenso. La situazione di Fedez invece, ammesso e non concesso che lui stia valutando questa ipotesi è decisamente più complicata perché in questo caso Fedez ha certamente ricevuto un danno d'immagine da quanto è accaduto alla moglie ma è altrettanto vero che manca un nesso causale vero e proprio cioè Fedez ha ricevuto sì un danno ma questo danno non è stato provocato volontariamente dalla moglie nei suoi confronti la moglie peraltro ha un suo patrimonio lui ne ha un altro ed è vero che ha inciso negativamente sulla vita di coppia la questione dei pandori ma è altrettanto vero che manca un nesso causale vero e proprio come ha fatto la moglie a danneggiare Fedez questo danno poi è contra Ius e soprattutto quale sarebbe la condotta dolosa o colposa posta in essere dalla moglie contro Fedez perché oggettivamente parlando ognuno dei due gestisce il suo patrimonio e gestisce le sue società Chiara Ferragni non ha mai coinvolto il marito in queste storiacce brutte 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 il marito è stato sanzionato fra virgolette di riflesso dai fan della moglie e della coppia tutto qui detto terra terra Chiara non lo ha insultato non ha offeso il suo onore, la sua reputazione non ha neanche interferito con le sue attività perché il pandoro era un'iniziativa di Chiara Ferragni e delle sue società Fedez e la sua società Zedef, se non sbaglio sono completamente strane a questo tipo di vicende oltretutto volendo essere precisi, precisi, precisi non c'è neppure la prova che il calo di interazioni di popolarità di Fedez sia relazionabile allo scandalo Ferragni perché Fedez imitando la strategia seguita dalla moglie subito dopo lo scandalo ha limitato a sua volta il numero dei post e delle comparizioni in pubblico quindi non c'è da stupirsi che anche lui abbia avuto il 50% in meno di interazioni e di visibilità se cessi di pubblicare materiale su Instagram e sugli altri social è ovvio che avrai meno interazioni Fedez tra l'altro ha perso in un certo periodo anche l'80% delle interazioni rispetto ai periodi precedenti ma teniamo presente che a gennaio, salvo errore di memoria da parte mia ha presentato sostanzialmente un solo contenuto e a febbraio neanche quello quindi se passiamo dal farci vedere ogni giorno al non farci vedere più è normale che i tuoi follower non interagiscano con te non gli dai il materiale per interagire e nell'ambito di una procedura per un risarcimento del danno anche tu devi dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo quel danno se no ne sei corresponsabile quindi a mio modesto parere anche sotto profilo legale oltre a quello umano, morale ed etico non c'è proprio spazio di manovra per quanto mi riguarda questa è una cosa che è stata buttata lì dal giornale di Corona un po' per farsi notare, un po' perché comunque lui di gossip ci vive quindi secondo me non ci sarà alcuna azione di Fedez per un'infinità di motivi non ultimo il fatto anche che, ripeto, il danno all'immagine c'è quando manchi di rispetto a qualcuno quando fai qualcosa per cui l'onore, la reputazione di una persona fisico-giuridica viene compromesso ma devi voler danneggiare quella persona lì, con dolo o quantomeno con colpa qui Chiara Ferragni si è occupata di tutt'altro, l'ha fatto evidentemente male poi qualcun altro accerterà se questo male è di origine volontaria o involontaria se c'è responsabilità di tipo penale o no eccetera eccetera ma il dato di fatto è che Chiara Ferragni contro Fedez non ha assolutamente fatto nulla lo avrà preso a borsettati in testa in qualche occasione lo avrà ripreso su Instagram, non lo so però certamente Fedez non può essere ricollegato alla serie di scandali di questi giorni li subisce di riflesso perché è il coniuge di Chiara Ferragni ma di riflesso ha anche beneficiato nel periodo in cui andava tutto bene di un notevole boost di reputazione e di notorietà naturalmente in una relazione ti prendi le cose belle speri che ce ne siano tante ma poi ti devi smazzare anche quelle brutte e possibilmente devi dare anche una mano al tuo coniuge il giuramento davanti all'ufficiale di stato civile è quello poi posso capire che ci fosse una mega festa ad attenderti 30 secondi dopo alla promessa lo scambio degli impegni e degli anelli ma tecnicamente e giuridicamente il rapporto quello è di matrimonio un rapporto anzi un contratto di mutuo aiuto poi qualche altro iscritto o meglio iscritta ha fatto notare che su alcune testate si vocifera che la causa della separazione possa essere trussardi lo staff di Chiara Ferragni ha negato che fra lo stilista o il parente dello stilista e Chiara Ferragni ci sia un qualche genere di rapporto i due si sarebbero incontrati soltanto una volta 5 o 6 anni fa per questioni di lavoro questi iscritti o iscritte chiedono poi se una situazione del genere possa verificare un addebito nei confronti di Chiara oppure no la mia risposta resta sempre la solita l'addebito è una cosa superata o ci sono in ballo interessi giganteschi e gravissimi motivi oppure non conviene mai e poi mai chiederlo mi spiego meglio se tu sei un Silvio Berlusconi con un patrimonio immenso e purtroppo per te soffri di cuore e hai paura che la ex moglie diventi tua erede sì puoi chiedere l'addebito così in questo modo nel momento in cui l'autorità giudiziaria lo riconosce il tuo patrimonio è tutelato principalmente per i tuoi figli perché stiamo parlando letteralmente della possibilità di essere redi nei confronti del coniuge e di dover assistere il coniuge nel periodo della separazione poca roba rispetto allo sbattimento quindi l'addebito è considerato uno strumento efficace solo ed esclusivamente quando hai letteralmente dei grandi patrimoni degli ottimi motivi per richiederlo le persone normali o che comunque hanno delle relazioni normali possono tranquillamente farne a meno anche se malauguratamente nella relazione sono stati abbandonati o addirittura traditi il punto è proprio questo anche nel caso che ripeto non è quello di cui stiamo parlando in cui Chiara Ferragni oppure Fedes avessero tradito il coniuge non è condizione necessaria e sufficiente per far scattare l'addebito per far scattare l'addebito non devi solo dimostrare l'infinita b-pagine o le mancanze del coniuge ma devi anche dimostrare di non averne avuto di tue insomma se in un momento di necessità tu non ci sei stato o sei relativamente assente dagli affari della famiglia non ti puoi lamentare se poi la tua dolce metà se ne va con qualcun altro il concetto di fondo è questo e ripeto l'addebito è una cosa fra virgolette complicata che va utilizzata con estrema parsimonia qui sinceramente non mi pare che i due coniugi siano intenzionati a farsi guerra non c'è alcun motivo, vivono benissimo anche da separati anzi forse dato il momento in cui si trova la famiglia dei Ferragniets la separazione dà maggiori garanzie di stabilità a entrambi soprattutto a Fedez poi naturalmente se per ipotesi uno dei due volesse o dovesse per qualsiasi motivo buttarla in cacciara e arrivare all'arma corta o alla cosiddetta rissa come credo si dica Roma tutto è possibile, non è che ci vuole molto puoi anche raccontare una cosa del tipo stavo affrontando il mio periodo più nero signor giudice e il mio compagno, la mia compagna ha pensato di portarmi a San Valentino da Cracco cosa realmente accaduta pare che anche lì invece di riappacificarsi rilassarsi siano volati gli stracci a differenza di quanto lasciano intendere le immagini su Instagram che erano decisamente sul romantico andante cosa che può sempre capitare quando nel menù ti ritrovi un piccione probabilmente a chilometro zero a 35 euro giù di lì poi mi viene anche chiesto ma avvocato come si gestiscono per i beni di famiglia? la risposta è che verosimilmente Fedez e Chiara Ferragni sono sposati in regime di saperazione dei beni quindi in pratica i loro asset personali restano esattamente quelli che sono detto tra parentesi potrebbero farsi guerra solo ed esclusivamente per il collocamento dei figli perché notoriamente i figli restano in pianta stabile presso abitazione coniugale non c'è bisogno di aggiungere traumi al trauma della separazione e quindi qualche volta i genitori combattono per fare in modo di essere anche i genitori collocatari ai quali viene assegnata la casa con i figli ok? poi di fatto questa è una visione del mondo altri si esprimerebbero in termini diversi ma per quanto riguarda il caso dei Ferragniets è abbastanza improbabile che si muovano guerra per questo motivo detto fra parentesi i Ferragniets normalmente utilizzano principalmente due abitazioni quella dell'attico di City Life che abbiamo visto tutti l'abitazione qui pare, secondo fonti di fanpage che sia di proprietà di una società della Ferragni ed è un valore di un immobile abbastanza rilevante all'incirca sui 4 milioni giù lì tra l'altro se non erro sono 400 metri quadri di immobile più la terrazza quindi non è esattamente piccolino probabilmente, secondo altre voci di corridoio i Ferragniets hanno convissuto da separati in casa per mesi e mesi e mesi pare che Fedez dormisse nella camera degli ospiti e apprendiamo così che hanno anche una camera degli ospiti oltre a una cabina armadio che fa provincia e una sala cinema l'altro immobile utilizzato di frequente dai Ferragniets è invece la villa sul lago di Como questa villa che si chiama Matilda in onore della cagnolina di Chiara Ferragni che ha sempre trattato benissimo come se fosse la sua prima figlia ha un valore un pochino più elevato sui 4 milioni e mezzo 5 milioni di euro ha sempre 400 metri quadri di spazio però piscina compresa mentre dall'altra parte il terrazzo non era compreso nella metratura e addirittura il giardino o la villa bagna direttamente il lago di Como o meglio è bagnata direttamente al lago di Como quindi tanta roba e anche questa villa non è intestata fisicamente a uno dei due ma alla società di Fedez questo tipo di operazioni non è assolutamente illegale sono cose che fanno i ricchi anche io ai tempi d'oro avevo degli assistiti che creavano apposta delle società immobiliari come dei contenitori al cui interno poi inserivano gli immobili che acquistavano e la società immobiliare si occupava solo ed esclusivamente di quegli immobili era praticamente ferma e serviva per differenziare il patrimonio personale che poi in realtà restava sempre personale perché le quote di questa società facevano comunque capo alla stessa persona fisica da quello della società questo tipo di assetto è più agile in certe situazioni ma non voglio fare figuracce con tutti gli amici commercialisti che seguono il canale e quindi mi fermo qui per ora se siete interessati all'argomento mi informo meglio e ne riparliamo tra l'altro volevo parlarvi anche dei beveraggi di Fedez ma purtroppo si è fatta una certa ora sospendiamo quest'argomento e ne parliamo magari domani nel prossimo video di Trash Italiano cosa ne dite? come sempre fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto se poi vi piacciono i miei video come sempre ricordatevi di attivare la campanella iscrivervi al canale condividere il link al video sui social che frequentate e mettere un mi piace grande e grosso è tutto gratis e date una mano anche a sviluppare un canale un pochino diverso dagli altri quindi confido su di voi inoltre se non farete tutto questo in un futuro alternativo improbabile decisamente remoto potreste ritrovarvi Fedez come compagno di stanza nel nuovo appartamento che prenderete in affitto fra 10, 20, 30 anni io vi ho avvisati poi fate voi come sempre grazie di tutto per tutto e a presto